Lady Colgno realizzato un filmato e rischia di cadere nello studio di Pomeriggio 5 e Domenica Live In attesa di andare in onda con una nuova puntata di Domenica Live, Barbara D'Urso dopo aver chiuso l'ultima diretta settimanale di Pomeriggio 5 ha realizzato un nuovo video Si tratta di un filmato che è stato girato dalla stretta collaboratrice di Lady Colgno e successivamente postato sul suo profilo Instagram Barbara D'Urso inciampa nel cavo della telecamera.Barbara D'Urso continua ad essere molto attiva sui suoi profili social, ovvero Instagram e Facebook Qualche ore fa la popolare conduttrice napoletana ha realizzato un divertente filmato all'interno dello studio di Cologno-Monezzese, dove viene realizzato Pomeriggio 5 Nel dettaglio Lady Colgno in minigonna con le frinze si è introdotta nello studio per dare una sistemata La donna, però, avvicinandosi alle scalinate, è inciampata nei cavi delle telecamere rischiando seriamente di cadere per terra Per fortuna Carmelita è riuscita a non perdere l'equilibrio e ha continuato a scherzare con la sua amica Barbara D'Urso e la reazione dei follower al suo ultimo video postato su Instagram Naturalmente il filmato realizzato da Barbara D'Urso ha diviso i suoi followers a metà Una parte l'hanno riempita di complimenti per lo spirito giovane, mentre altri l'hanno criticata aspramente In tanti, infatti, considerano infantile il suo comportamento visto che ha ben 61 anni Accanto al divertente video Lady Colgno ha scritto la seguente didascalia A due punti, punto da brava padrona di casa, prima di andare via, devo assicurarmi che tutto sia in ordine, giusto? Diesis Crazi diesis mai fermarsi diesis pom e riggo 5 diesis tutto pulito diesis continua diesis col cuore Grazie a tutti